Il Governo regionale dice sì all'assegno di cura alle famiglie dei disabili gravi. E' questo l'importante risultato ottenuto dalle associazioni che hanno incontrato a Palermo il Presidente della Regione Rosario Crocette ed il Vice Presidente Mariella Lobello. La vicenda è quella relativa alle modalità con le quali attualmente vengono garantiti i servizi, ossia i voucher, con le famiglie che da settimane portano avanti una vera e propria battaglia per ottenere invece l'assegno di cura e consentire così ai disabili di scegliere come e da chi farsi assistere. La soddisfazione di Daniela Campione dell'associazione Crescere Insieme di Sciacca. Eravamo in tanti, tantissime associazioni, tantissimi familiari, tantissime anche associazioni della società civile, ma soprattutto i grandi protagonisti loro, tantissimi disabili. Insieme abbiamo fatto il sit-in, una delegazione, una rappresentazione, i nostri rappresentanti sono saliti su ed il Presidente e il Vice Presidente hanno sicuramente ammesso questa come una modalità non solo possibile ma anzi auspicabile. Quindi una sorta di possibilità di scegliere tra le due modalità, quella dei voucher e quella dell'assegno di cura è che si risulta essere molto molto agevole dal punto di vista sia dell'erogazione ma sia anche della libertà dell'assistito e dell'assistente di scegliere il proprio operatore, quindi le modalità di assistere liberamente i disabili gravissimi. A segno di cura che, verosimilmente, sarà possibile erogare alle famiglie dei disabili gravi a partire dalla prossima annualità. Adesso quali saranno i passaggi successivi? È stato dunque detto sì all'assegno di cura, che era ciò che voi chiedevate, il motivo per cui è partita questa mobilitazione. Da un punto di vista pratico, materiale, quando se ne parlerà poter cambiare le modalità di accesso a questo servizio di assistenza domiciliare? Tutte queste associazioni formuleranno insieme una proposta, è una proposta che verrà sottoposta agli uffici ma credo che a riguardo ci siano le idee abbastanza care, quindi la possibilità di dare la doppia opzione al genitore di scegliere sia la cooperativa sia l'assegno di cura penso che sia una modalità già fattibile, del resto già conosciuta e riscontrabile col bonus sociosanitario, quindi nulla di nuovo, ma semplicemente riconoscere questa modalità al disabile gravissimo sicuramente darà più libertà a tutti e meno disuguaglianze sia fra regione e regione, perché ricordiamolo, tantissime regioni d'Italia già lo erugano, sia dal punto di vista distretto a distretto, perché ci sono distretti che hanno questo servizio e ci sono questo progetto e altri distretti che non ce l'hanno, quindi avere questa uguaglianza, questo riconoscimento è sicuramente un passo importantissimo, riconoscere la disabilità gravissima senza il vincolo dell'Isee, perché il Fondo Nazionale della Non Autosufficienza è destinato a loro, anzi al contrario viene dirottato verso altri progetti, quindi il primo passo è fatto, però ovviamente non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo anzi dare questo momento in poi essere molto più tenaci e farci valere.